Invio questo video messaggio a chiunque lo capti, sono Mike Reddy, comandante del centro ricerche White Stable, avamposto operativo della Green Line. Non avvicinatevi alla White Stable, ripeto non avvicinatevi alla White Stable, la zona è contaminata, tutto è iniziato alcuni mesi fa, alcuni esemplari di Ede Salvo Pictus sono giunti qui alla base con i carichi di liberi, la disinfestazione non ha saputo eliminarli o forse qualcuno l'ha fatto di proposito, già forse fa tutto parte di qualche fottuto esperimento, soltanto avessimo potuto immaginare tutto questo, sono creature prive di intelligenza ma dotate di un puro istinto distruttivo. Inizialmente? Inizialmente? Attention, you are now entering the demarcation area, no talking, no smoking, follow the orange line to the processing area. Inizialmente questo messaggio dovete fermare, fermare la Green Line, dovete fermare i suoi fogli esperimenti, resistono all'atmosfera esterna, dovete sterminarle, ripeto, sterminarle! Ti odia più! White Stable Under Attack Nelle aride valli del pianeta rosso, gli uomini della White Stable sperimentano nuove culture transgeniche, sementi modificate geneticamente per crescere e sopravvivere nell'inospitale atmosfera marziana. La Green Line Corporation vuole trasformare Marte nel nuovo granaio della Terra, ma una spaventosa minaccia incombe su tutti loro. I scienziati della base hanno inconsapevolmente generato la creatura più spaventosa mai apparsa sullo schermo, un essere che trova nelle sere della White Stable l'ambiente ideale per sopravvivere. Horror Shock su Marte Ma come potete far finta di niente dopo quello che è successo, eh? I miei uomini sono in pericolo, la missione stessa è in pericolo. Il vostro uomo si è perso durante una tempesta di sabbia e probabilmente è morto, può succedere. I virus alieni che popolano il sottosuolo si trasformano in terrificanti creature che si riproducono e crescono rapidamente. I uomini della White Stable dovranno fronteggiare queste orribili bestie assettate di sangue umano. The Giant Tiger Moschitos. Paul Franciosi. Hilary Dayton. Alice Troncheit. Andrei Zapovich. Eric Walker. White Stable. Under attack. Preparabile l'assistere ad un orcio di sangue e distruzione. Mai prima un simile orrore è apparso sugli schermi. Mai prima d'ora hanno dovuto affrontare un simile pericolo. Jonathan. Campo magnetico livello 8. E lei Palmer? Si prepari. Se è la guerra che vogliono, allora guerra sia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.